Una scuola che parte però zoppicante perché per alunni che stanno al di là della cattedra c'erano oggi davanti al provveditoriato in coda aspiranti, insegnanti che appunto stanno dall'altra parte invece della cattedra. Ecco le loro testimonianze. Per loro non è affatto il primo giorno, il primo giorno passato in coda su queste scale ad attendere che le porte del provveditoriato si aprano. Decine e decine di precari, nemmeno più così giovani, un odissea che per molti di loro dura almeno da sette anni. Volevo sentire un attimo cosa ci dicono, se abbiamo possibilità di lavorare almeno. Per me è una presa in giro perché ci sono 56 posti e ci hanno convocato in 80. Io ho fatto 10 anni di pregare radio, mi è una male quest'anno sono di loro e grazie al Signore. Sono partito ieri sera col treno, dormendo il treno e stamattina mi trovo qua, c'era speranza se trovo qualcosa. Ho detto se speri di trovare lavoro qui scordatelo, vieni e vai al nord. La maggior parte viene dal sud e spiega, ci hanno detto che questa per noi era l'unica soluzione. Rimane il nord zoppicante dunque ancora l'unica possibilità di poter rientrare nel meccanismo di una selezione in cui i nomi non siano già decisi in partenza. L'anno scorso sono stati convocati in più rispetto a quest'anno e che magari queste persone lavoreranno solo grazie a un part time o a un orario spezzettato. Oggi in Paglio c'erano 56 posti, 23 erano part time. Intendiamo che part time sono 12 ore, 6 ore. Non so se uno può vivere con 100 euro al mese. Tra l'altro sei costretto a prendere, altrimenti vieni cancellata dalla graduatoria. 450 euro al mese per un part time. 450 euro. E si vive con questi soldi? No, non si vive. Facciamo una vita da... ristretta. Quanto tempo è senza lavoro lei? No, 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 non ho parole. Io non ho nessuna speranza proprio, quindi sono già rassegnata. Giovedì CGL di nuovo in piazza contro i tagli della manovra alla scuola. Giovedì CGL di nuovo in piazza contro i tagli della manovra alla scuola.